La protezione civile Città di Clusone ha preso casa in comunità montana, come stanno andando gli interventi per l'adeguamento della nuova sede? Direi bene, nel senso che siamo arrivati ormai già a una buona percentuale di lavori effettuati e quindi possiamo ritenere già la struttura efficiente e pronta all'utilizzo. Già infatti in questo periodo, visto le condizioni meteo che si propongono favorevoli ad eventuali emergenze di tipo boschivo, la stiamo già utilizzando a pieno carico, già con del personale nel fine settimana e con servizi organizzati in reperibilità. La struttura di fatto è composta da diversi locali e questi locali sono fruibili sia dal servizio protezione civile Città di Clusone, sia facilmente comunque riutilizzabili o riconfigurabili per una condizione di emergenza sovracomunale. Ricordo infatti che da ormai 33 anni a questa parte l'ente comunità montana è l'ente gestore del servizio di protezione civile o meglio dell'attività di COM, centro operativo misto, ovvero quella struttura di coordinamento che accorpa all'interno di sé le funzioni di gestione di una potenziale condizione emergenziale che si potrebbe verificare sul territorio, in questo caso sul territorio dell'Alta Valle Sereniana. L'approntamento che abbiamo fatto quindi non è in virtù di una crescita, non tanto di una crescita del servizio di protezione civile Città di Clusone che comunque di conseguenza avrà il suo incremento e la sua espansione, ma in realtà è a servizio e a disposizione proprio del territorio e delle amministrazioni locali e quindi dei concittadini e dei cittadini del comprensorio. Ricordando che già adesso comunque Clusone, anzi più che adesso da 5 anni in questa parte, il servizio di protezione civile Città di Clusone è condiviso con amministrazioni locali vicine al territorio clusonese, qua ad esempio Villadogna, Pirario, il Tresenda, abbiamo avuto anche delle collaborazioni con Comunicerete, Gorno. Quindi tutta questa condizione ci ha spronato per poter fare un passo in avanti e deficientare al meglio un servizio di risposta e di eventualmente gestione, che è capace anche di accogliere enti terzi, enti pubblici di terzi deputati alla gestione emergenza, facilitando ovviamente il loro ruolo, facendo sì che questi ultimi possano trovare già una struttura attrezzata, facilmente fruibile, dedicata a possibili scenari che si possono verificare sul territorio. Questo significa anche altro, la sede non è solo sede in questione di mura o di attrezzature, ma si tratta anche di aumento del personale. Al 31-12 il ruolo al personale, la forza attiva era di 59 operatori, divisi in specialità che variano dall'emergenza pronto impiego, comprendendo anche la parte antincendio boschivo, passando per cinofili ricerca e soccorso, che è un servizio che gestiamo anche con il servizio provinciale di protezione civile, di provincia di Bergamo, e abbiamo poi una serie di altre specialità prettamente tecniche interne, quali l'ambito telecomunicazione, dove abbiamo figure professionali deputate, quindi tecnici formati all'uopo per questa specialità, quindi periti, ingegneri, eccetera, che si occupano di questa parte, per concludere poi nell'ambito logistico e supporto.